Ben trovati, questo video è una breve introduzione alla storia dell'architettura o meglio è un'introduzione a un'altra serie di video sui vari periodi della storia dell'architettura quindi ci saranno una serie di video che partiranno il primo dalla storia dell'architettura greca per arrivare all'ultimo video sull'architettura moderna l'obiettivo è quello di fornire i concetti minimi indispensabili per la comprensione di ogni periodo sono stati pensati ad uso degli studenti, in particolare dei miei studenti che frequentano l'ultimo anno dell'istituto tecnico, costruzioni, ambiente e territorio è chiaro che necessitano di approfondimento, hanno l'obiettivo di stimolare anche la curiosità in modo da poter apprendere con più pienezza i concetti di ogni periodo soprattutto studiando poi le varie opere bene, vi ringrazio per l'attenzione e auguro buono studio e buon lavoro